un capitolo della mostra è dedicato alla storia del mondo ai grandi e grandi eventi che hanno fatto la storia del mondo qui c'è una famiglia molto importante famiglia americana del presidente kennedy ai funerali jackie una jackie inedita molto diversa dal solito sappiamo quanto jackie fosse stata sempre capace di essere impostata presente a se stessa in tutte le immagini qui ha indossato una veletta per non mostrare i suoi sentimenti il cedimento dei suoi sentimenti e eliot mi raccontava che in camera oscura quando ha poi stampato la fotografia sotto la veletta è riuscito a intravedere una lacrima che scendeva e mi raccontava anche che quando è stata lungamente pubblicata queste immagini talvolta è stata ritoccata da parte delle testate da parte dei giornali hanno addirittura tolto questa lacrima finché non si vedesse ci sono altre immagini di personaggi importanti i presidenti degli stati uniti eliot seguito la casa bianca è stato accreditato alla casa bianca e ha seguito le vicende politiche degli stati uniti fino ai tempi più recenti però mi raccontava che appunto il la stima e la speranza che kennedy incarnava per gli stati uniti ha rappresentato un momento magico momento particolare questa storia questa fotografia racconta questa storia molto bene c'è oltre all'emozione della famiglia di kennedy anche proprio l'emozione personale